Oggi è il primo maggio 2020. Questo video vuole mostrare gli stretti legami tra il fenomeno UFO e la scienza, la fisica e la scienza. Contrariamente all'idea che questo fenomeno sia solo una voce, un fenomeno paranormale, questo video fornisce forti argomenti a favore dell'ipotesi di un arrivo di extraterrestri sul pianeta Terra. Si rivolge in particolare a Lou Elizondo, Christopher Melon, Robert Bigelow, Tom Delonge, Jacques Vallée, Leslie Keen, Stephen Spielberg e James Cameron. Speriamo di ricevere un feedback da parte loro. Mi chiamo Jean-Pierre Petit. Sono uno scienziato francese in pensione ma ancora attivo. Ho diverse specialità. La prima è la meccanica dei fluidi. La seconda è la fisica del plasma. Ho pure pubblicato dei lavori nel campo dell'astrofisica e della cosmologia. Come scienziato mi sono interessato al fenomeno UFO dall'anno 1975. Quanto segue spiegherà perché. Dal 1965 ho condotto ricerche teoriche e sperimentali in magneto-idrodinamica, in breve MHD. Il punto di partenza è stata la produzione di energia elettrica utilizzando generatori MHD. Nella foto si vede il banco di prova che ho costruito nel 1965 all'Institut des mécaniques des fluides di Marsiglia. È un cannone al plasma. Come tutte le armi ha una culatta. Questo cannone spara una raffica di plasma che corre lungo questo tubo a 3 km al secondo. Passa poi attraverso un ugello MHD a sezione costante lineare a cui si affiancano due solenoidi che creano un campo magnetico trasversale molto forte. Il lettore interessato troverà su internet il principio e la descrizione di questo generatore MHD che trasforma l'energia cinetica di un plasma in elettricità senza parti in movimento. Questa conversione diretta dell'energia cinetica, mezzo megavolt, 2, in energia elettrica provoca un rallentamento del gas. Nonostante le ingenti risorse impiegate in alcuni paesi, in particolare in Russia, questo tentativo di sviluppare questa tecnologia è stato un fallimento. Questo è un modello dell'enorme impianto russo U25 che operava vicino a Mosca negli anni 70. Nel generatore MHD francese, l'ugello MHD aveva le dimensioni di una lattina di birra. A titolo di confronto, ecco l'ugello dell'impianto russo MHD con il suo magnete da 2000 tonnellate. E questo è l'interno di quella bocchetta, a destra e a sinistra, di elettrodi. In questo impianto russo, la temperatura del gas non superava i 1200 gradi. I vincoli tecnologici hanno limitato seriamente questa temperatura. Poiché la conduttibilità elettrica del plasma dipende molto fortemente dalla sua temperatura, esponenzialmente, questa era molto limitata. E' questo vincolo che portò alla fine degli anni 70 all'abbandono di questa formula con pretese industriali. Al contrario, l'impianto francese era stato progettato per funzionare con una temperatura del plasma di 10.000 gradi, che gli ha conferito una conduttibilità elettrica molto elevata. L'efficienza di conversione dell'energia cinetica in energia elettrica era quindi elevata. Nell'impianto russo, invece, l'efficienza è stata molto bassa. Nel montaggio che avevo progettato, avevo eliminato i problemi tecnologici, limitando il tempo di esecuzione a 50 milionesimi di secondo. Questo impianto non era quindi un progetto industriale, ma aveva il vantaggio di poter studiare il processo di conversione dell'energia elettrica in condizioni che nessun altro impianto al mondo poteva offrire. Questa efficienza di conversione molto elevata ha portato ad un notevole riduzione della velocità al punto che si è generata un'onda d'urto. Un'onda d'urto, piana, si stava accumulando nell'ugello a sezione costante. Il mio laboratorio è stato l'unico in cui l'effetto poteva essere prodotto. In termini concreti, ciò significava che si poteva creare un'onda d'urto in un gas senza alcun ostacolo materiale. Questo ostacolo è scostituito, semplicemente, da forze elettromagnetiche. Da qui, la seguente osservazione. Ecco un oggetto. È una spillatrice. Posso prendere questa spillatrice e sviluppare un po' di energia per metterla qui sotto. Ora penso che con la stessa energia riuscirò a prenderlo e a toglierlo. Torniamo allo schema della nostra esperienza MHD. Questo è l'ugello supersonico, nudo. In questo flusso, supersonico, colloco un oggetto che è come una piccola ala di aeroplano. Intorno a questo oggetto verrà quindi installato un sistema di quattro onde d'urto, obliche e piatte. Poi emerge un'idea. In questo flusso di gas ionizzato, creando attorno a questo modello un campo di forze elettromagnetiche tale che il campo magnetico e l'intensità elettrica della corrente che scorre attorno al modello hanno valori paragonabili a quelli che avevano causato la comparsa di un'onda d'urto piana, potremmo evitare che le onde d'urto si producano attorno a questo piccolo oggetto immerso in questo flusso di gas supersonico? Quest'idea è stata inizialmente presentata in un documento presentato all'Accademia delle Scienze di Parigi nel 1975. E' stato progressivamente affinato in una serie di lavori presentati all'Accademia delle Scienze di Parigi, qui nel 1977. Ecco un altro lavoro presentato nell'80 e un altro l'anno successivo nell'81. Il concetto teorico sottostante viene progressivamente sviluppato che mostra una meccanica dei fluidi priva di onde d'urto grazie ad un controllo completo da parte di un campo di forze elettromagnetiche. In questa immagine si vede ciò che gli specialisti chiamano onde MAC. E' il contatto delle onde fra di loro che fa apparire le onde d'urto in queste zone mostrate in rosa. L'MHD impedisce che il contatto di queste onde fra di loro e fa scomparire le onde d'urto. Sta quindi emergendo una terza meccanica dei fluidi. Prima c'è stata la meccanica dei fluidi subsonici, dove non ci sono onde d'urto. Poi c'era la meccanica del flusso del fluido supersonico, dove le onde d'urto appaiono necessariamente. Ed ora ciò che costituisce una vera e propria rivoluzione è la meccanica del flusso dei fluidi supersonici, controllata dall'MHD, dove le onde d'urto sono impedite. Per le macchine volanti queste onde d'urto non sono solo rumorose. Hanno anche bisogno di più energia per andare avanti. E da MAC 4, 5 costruiscono un impenetrabile muro di calore. Abbiamo cercato in Francia negli anni Ottanta di dimostrare questa possibilità di far scomparire le onde d'urto in una calda raffica di gas. Ma non avevamo i mezzi per realizzare questo esperimento. Poiché le onde create alle navi sono l'equivalente delle onde d'urto. La velocità di propagazione delle onde di superficie è l'equivalente della velocità del suono. Diventa quindi possibile regolare il flusso impostando gli opportuni valori dei parametri. A causa dell'elettrolisi, la corrente nell'acqua è limitata a 1 A per centimetro quadrato. Questo risultato richiede quindi un elevato campo magnetico dell'ordine di un Tesla. MHD offre la possibilità di sopprimere la scia turbolenta, che è stata dimostrata già nel 1976 a valle di un ostacolo cilindrico. Questo risultato può essere esteso con un'altra configurazione agli oggetti sferici. Nella meccanica dei fluidi, le due fonti di rumore sono, di norma, le turbulenze. E nella meccanica dei fluidi, le onde d'urto supersoniche. Come dicono i testimoni che hanno osservato il silenzio totale, il legame con il fenomeno UFO sta diventando sempre più evidente. Le macchine MHD sono circondate da plasma. Quando sono dotati di elettrodi, la maggiore luminosità in prossimità di elettrodi li fa apparire come oblò. Il che è coerente con i racconti dei testimoni. Le forme di questi dispositivi, chiamati aerodini, MHD, sono determinate dalle leggi della fisica del plasma sotto forti campi magnetici. Non hanno più nulla a che fare con le forme delle classiche macchine volanti che sono governati dalle leggi della meccanica dei fluidi. Intorno a tali macchine, il fluido non viene più erogato a se stesso. Come nella figura sinistra, ove, la sua penetrazione del fluido è accompagnata da un'onda d'urto e da fortissime turbulenze. Figura a destra, la portata, è in totale contraddizione con le leggi classiche della meccanica dei fluidi. Questo fluido è obbligato ad obbedire agli ordini imperativi impartitigli dal campo di forza elettromagnetico che agisce su se stesso. Tutto in queste macchine volanti può sembrare assurdo. Per esempio, questo è ciò che si ottiene quando si implementa un sistema di controllo a ionizzazione a microonde. Il risultato è un sistema di archi a microonde che i testimoni descrivono come raggi di luce troncata. Nel corso degli anni si susseguiranno pubblicazioni su riviste scientifiche di alto livello e articoli controllati da comunità di lettura in occasione di importanti conferenze internazionali. Ecco una tesi di dottorato sulla soppressione delle onde d'urto che viene difesa nel 1988. Tesi che presenza tutti gli elementi teorici della soppressione delle onde d'urto da parte delle forze elettromagnetiche. Una tesi che sarà pubblicata anche sulla rivista di alto livello The European Journal of Mechanics nel 1989, accompagnata da una presentazione al simposio internazionale MHD a Tsukuba in Giappone, dove tutto è incentrato su quest'idea essenziale di mantenere il parallelismo delle onde Mach. Questa presentazione e pubblicazione è accompagnata da una massa di risultati sia teorici che sperimentali. Qui abbiamo l'ottenimento di correnti elettriche a spirale. Ecco la prima presentazione del concetto di soppressione dell'instabilità di ionizzazione di Velikov mediante confinamento magnetico. Una presentazione che fu fatta al simposio internazionale MHD a Mosca nel 1983. Ecco la conferma sperimentale di questo concetto. Questo è un risultato importante. Infatti, senza un tale sistema, non ci sarebbe semplicemente nessun MHD per i plasma a temperatura moderata, sottoposti ad un campo magnetico molto forte. I plasmi sono molto difficili da controllare. Quando si crea una scarica elettrica intorno a un oggetto, la pressione magnetica tende a soffiarla dal cosiddetto oggetto. È stato quindi necessario creare il concetto di confinamento parietale. Per inversione del gradiente del campo magnetico, è stato confermato sperimentalmente. Ecco la corrispondente pubblicazione scientifica sulla rivista polacca Acta Fisica Polonica. Non ho intenzione di descrivere nel dettaglio tutti i risultati sperimentali che sono stati ottenuti e di lavori pubblicati su riviste di alto livello per quasi 40 anni. La questione centrale è rimasta l'agnentamento delle onde d'urto da parte dell'MHD. Negli anni Ottanta non esisteva più la galleria del vento caldo in cui si sarebbe potuto realizzare questo esperimento. È stata smantellata. Si sarebbe dovuto ricreare un laboratorio MHD dove questo montaggio avrebbe potuto essere ricostruito. Ahimè non è stato possibile. È vero che in Francia la voglia di innovare è più un handicap che un vantaggio. La ricerca di MHD è stata quindi totalmente abbandonata in Francia. Questo, so, significa che lo stesso è stato fatto anche in altri paesi? No, non è vero. Ne abbiamo avuto la prova nel 2018 quando il presidente Putin ha presentato le nuove armi della Russia ai delegati della sua assemblea, la Duma. In questo arsenale troviamo un missile aria-aria Kinzhal con una gittata di 2000 km funzionante a Mach 10. È un aliante ipersonico avant-garde capace di deviazioni di traiettoria molto grandi quando spiomba verso il suo obiettivo. Lanciato dal Sarmat con una velocità di avvicinamento corrispondente a Mach 30 è come il Kinzhal totalmente fuori dalla portata degli attuali sistemi antimissili. È estremamente semplice. Se non fossero dotati di dispositivi di soppressione delle onde d'urto MHD questi dispositivi, alle velocità a cui dovrebbero viaggiare, svanirebbero immediatamente nel nulla. Ma per fare la MHD hai bisogno di elettricità. Per i motori Kinzhal e Avant-garde quale sarebbe la fonte di energia elettrica? All'inizio degli anni Ottanta in occasione di un simposio internazionale delle MHD negli Stati Uniti ho avuto discussioni con due ricercatori russi. Era allora evidente che i russi erano finiti nei cosiddetti generatori di Pavlovsky. Questi utilizzano i gas di espulsione di un razzo in polvere ad alta temperatura e arrecchito di cesio che conferisce loro una buona conducibilità elettrica. È quindi possibile configurare i deviatori di questi razzi a polvere come generatori MHD. Un ingegnoso sistema auto-eccitante permette di ottenere elevati valori di campo magnetico. La durata limitata delle pareti e degli elettrodi non è un problema per dispositivi come Kinzhal o il siluro russo ad alta velocità MHD. Ecco il segreto del missile aria-aria Kinzhal. Il missile Avant-garde è un aliante. La sua fonte di energia è quindi la gravità. Un generatore di corrente ad alta tensione e quindi posizionato sui suoi fianchi. Questa energia permette di regolare il flusso sulla parte anteriore limitando il flusso di calore. Ciò corrisponde al sistema di bypass MHD descritto nella tesi del 1988. Oltre a questo i russi avrebbero forse affettuato una retro-ingegneria pretendendo sul serio gli avvestamenti di UFO segnalati dai testimoni? Rasta il fatto che il fenomeno UFO spinge gli scienziati ad avventurarsi al di fuori del campo concettuale del loro tempo. Questo può portarli a cercare di risolvere problemi considerati impossibili. Come considerare un movimento supersonico nell'aria senza creare un'onda d'urto e una turbolenza cioè in silenzio. Per maggiori informazioni consultare questo video vedere qui sotto il link su YouTube. L'ipotesi che gli avvestamenti di UFO corrispondono a visite straterrestri ci porta a riconsiderare il problema delle fattibilità dei viaggi interstellari. Il modello cosmologico di Giano è il risultato di trent'anni di riflessione sull'argomento. Potete fare riferimento alla versione francese di questo video o la sua versione doppiata nella vostra lingua all'indirizzo sopraindicato. Ecco un riassunto. Questo modello mostra che ci sono due tipi di masse nell'universo masse positive di cui siamo fatti e masse negative. Secondo questo modello se si vuole passare dal punto A al punto B se l'oggetto che si muove è fatto di massa positiva allora la sua velocità è limitata a 300.000 km al secondo. D'altra parte se questo oggetto è costituito da massa negativa ad esempio si rappresenta un veicolo e di suoi passeggeri le cui masse sarebbero state invertite allora questo limite di velocità viene aumentato a 3 milioni di km al secondo. cioè ad un valore 10 volte superiore. In questo universo di Giano tra due punti A e B sono due modi per calcolare la distanza. Vi rimando al video sopra menzionato. Se ci si sposta dal punto A al punto B utilizzando un veicolo con massa positiva la distanza è allora AB+. Se ora viaggiamo con un veicolo con massa negativa la distanza è AB- 100 volte più corta. Combinando questi due valori troviamo che il tempo di viaggio può essere ridotto di un fattore 10 volte 100 cioè di un fattore 1000. Supponendo che la tecnologia dell'inversione di massa sia padroneggiata quando il veicolo e i suoi passeggeri sono invertiti il veicolo e i suoi passeggeri sembrano scomparire alla vista sembra smaterializzarsi una volta raggiunta la sua destinazione non deve far altro che eseguire una nuova inversione di massa per tornare a questo mondo positivo poi sembra apparire dal nulla questo è coerente con le testimonianze di testimoni che dicono di aver visto apparire improvvisamente un UFO come dal nulla a meno che un po' più tardi lo stesso oggetto non sembri scomparire nei loro occhi altrettanto misteriosamente immaginiamo un veicolo in crociera interstellare qui ha invertito la sua massa quindi sta evolvendo nel mondo delle masse negative ultra rarefatte a distanze di centinaia di milioni di anni luce si vedono immensi conglomerati di antimateria anti-idrogeno e elio a massa negativa sferoidali sono paragonabili a immense protostelle che emettono deboli emissioni di rosso e infrarossi se inverte di nuovo la sua massa i conglomerati di massa negativa scompaiono e le stelle diventano di nuovo visibili come un sottomarino che riemerge il veicolo interstellare può quindi localizzarsi su diversi fonti radio e fare il punto della situazione eventualmente regolare la sua traiettoria prima di effettuare una nuova inversione di massa secondo il modello di Giano questo mondo negativo cioè questo lato dell'universo è estremamente rarefatto durante la crociera nel mondo negativo il veicolo è fatto di materiale di massa negativa sulla sua strada incontrerà rarissime particelle di antimateria con massa negativa dovrà quindi proteggersi con uno scudo magnetico così come la terra si protegge dal vento solare emesso dal sole con il proprio scudo magnetico la questione dell'esistenza di masse negative che corrispondono a stati energetici negativi è un problema che emerge direttamente dalla meccanica quantistica all'interno del team di Janus abbiamo iniziato ad esaminare questi temi è un primo articolo è stato pubblicato nella versione digitale del Journal of Physics Così questa tecnologia di inversione di massa emergerà dalla meccanica quantistica estesa agli stati energici negativi Cerchiamo di riassumere la situazione sulla terra gli uomini sono come gli abitanti di una piccola isola sperduta in un mezzo a un immenso oceano non avrebbero mai avuto contatti con gli altri esseri viventi vivono di caccia e di raccolta e hanno sviluppato una tecnologia primitiva un giorno vedono apparire nel cielo un oggetto volante non identificato ovviamente non sono in grado di capire come un tale oggetto possa volare l'idea che questo oggetto sia una macchina volante pilotata da esseri intelligenti è vista con il massimo scetticismo visto che questo fenomeno non si spiega tra gli abitanti di quest'isola in nessun diagramma esplicativo decidono di considerarlo come un fenomeno paranormale la spiegazione più comune che alla fine è emersa come la più credibile è che questo fenomeno proviene da un'altra dimensione dello spazio-tempo infatti qualsiasi individuo o gruppo tende a installare lo studio di un nuovo fenomeno nell'ambito delle proprie competenze poiché questo fenomeno non sembrava inserirsi in nessun contesto si è deciso di crearne un nuovo chiamato ufologia l'isola allora aveva molti ufologi è stato estremamente facile fingere di essere un ufologo poiché questa disciplina non aveva un contenuto definito bastava dire che si possedeva un'abilità immaginaria il fatto che questo approccio ufologico non abbia mai prodotto nulla di tangibile in oltre 70 anni non ha sminuito il suo crescente successo presto un pubblico sempre più vasto tornando a questa immagine di un'isola persa nel mezzo di un enorme oceano uno degli abitanti di quest'isola cerca di interpretare uno dei fenomeni legati a questo oggetto volante non identificato utilizzando le conoscenze scientifiche e tecniche locali ma la sua interpretazione potendo essere troppo avanzata dal punto di vista scientifico per gli altri isolani non riesce a creare un vero interesse nel tentativo di andare oltre nell'interpretazione delle osservazioni propone dunque una soluzione scientifica e tecnica più avanzata purtroppo senza molto più successo per analogia MHD rappresenta un primo tentativo di spiegare alcuni fenomeni legati a oggetti volanti non identificati ma questa spiegazione è contraddetta dal fatto che i testimoni non riportano alcun flusso d'aria che possa accompagnare questo sistema di sustentazione una soluzione alternativa più sofisticata comporterebbe un'inversione ciclica della massa dell'oggetto volante in accordo con la meccanica che collega le masse positive e negative che si respingono a vicenda quando l'oggetto inverte la sua massa la terra si comporterebbe verso di essa come respingente mentre diventava invisibile agli occhi di un osservatore l'oggetto volante cadeva verso l'alto il fenomeno opposto quando la sua massa torna ad essere positiva con un'inversione ciclica della sua massa l'oggetto sembrerebbe allora sfuggire alla gravità va notato tuttavia di sfuggita che questa prima modellazione MHD contraddice la conclusione raggiunta nel 1968 da Edward Condon nel rapporto dello studio commissionato dalla US Air Force al costo di 500.000 dollari secondo questa conclusione lo studio del fenomeno UFO non presentava alcun interesse scientifico o tecnico sembra che i russi siano giunti a conclusioni molto diverse mettendo a profitto i risultati del loro studio sull'argomento ecco la mia conclusione personale ho abbandonato il mio lavoro di MHD nel 1985 35 anni fa vorrei quindi chiarire che è escluso per me di prendere in mano la direzione della ricerca in questo campo sono nato nel 1937 quindi oggi ho 83 anni dedicherò il numero limitato di anni che mi restano da vivere al mio lavoro in cosmologia astrofisica e fisica teorica l'obiettivo è quello di progettare con sperimentatori dotati di mezzi adeguati una prima dimostrazione sperimentale di un'inversione di massa a mio avviso fondamentale per i viaggi intestellari dal 2014 quando un articolo sul modello cosmologico di Giano è stato pubblicato per la prima volta su una rivista peer reviewed seguito da una dozzina di altri non è successo assolutamente niente in questi sei anni tutte le mie proposte di presentazione in seminari scientifici non hanno ricevuto altro che silenzio nessuna stampa ha dato eco a questi lavori mentre i giornali si infiammavano non appena appare l'idea pur fosse primitiva potete scommettere se nessuno fa niente che non succederà niente neanche nei prossimi sei anni e poi andrò avanti fino ai miei 90 anni e molto probabilmente che queste idee e questi lavori saranno sviluppati sotto altri nomi con altre firme non sarò in giro ad assistervi tuttavia la matematica belga Nathalie De Berg ha dimostrato di avere un'ottima conoscenza nell'estensione di queste idee di Giano nel campo della meccanica quantistica attualmente è insegnante in una scuola tecnica belga e quindi i suoi compiti di insegnamento e amministrativi le lasciano poco tempo per la ricerca affinché possa essere sollevata da questa responsabilità e possa lavorare a tempo pieno alla nostra ricerca teorica dovremmo essere in grado di fornirle uno stipendio che rappresenta ogni anno 80.000 euro di spese incluse si può fare attraverso l'associazione Support Janus se desiderate contribuire a questo progetto troverete le informazioni e il link al sito web dell'associazione delle informazioni che accompagnano il video al fine di rendere questo progetto il più riuscito possibile il video sarà tradotto in tutte le lingue e la richiesta di assistenza sarà indirizzata alla comunità internazionale ci sono diversi scenari da considerare o le donazioni saranno molto più importanti e supereranno lo stipendio di Nathalie De Berg il sovrappiù può poi essere utilizzato per dare un premio Janus a coloro che hanno pubblicato un lavoro davvero significativo su una rivista mainstream di alto livello che rappresenta una svolta nel modello Janus situazione intermedia la somma raccolta non è sufficiente a garantire uno stipendio corrispondente a un'attività a tempo pieno si prenderà quindi in considerazione la metà del tempo infine un'altra soluzione se le somme raccolte saranno ancora più basse il resto sarà dedicato al premio Janus se desiderate contribuire a questo progetto troverete informazioni e il link al sito web dell'associazione nel breve testo che accompagna questo video grazie a tutti